Paul Pogba dopo aver riportato la lesione del menisco laterale nel primo allenamento della Juventus a Los Angeles non sarà operato e il suo recupero è previsto tra circa 5 settimane il risponso è arrivato dopo il consulto specialistico con il luminare delle ginocchia che lo scorso maggio ha operato Zlatan Ibrahimovic avvenuto a Lione Pogba e la Juve hanno optato per una terapia conservativa e in base al programma di recupero nelle prime tre settimane si svolgerà un lavoro in piscina, in palestra mentre nelle seguenti svolgerà un lavoro sul campo individuale con le sue condizioni che verranno monitorate quotidianamente qualora il percorso di recupero dovesse andare per il verso giusto Allegri potrà sperare di averlo a disposizione nella settimana che porterà il match contro la Salernitana la lesione al menisco laterale normalmente si risolve con un intervento e comporta uno stop dai 2 a 5 mesi a seconda del tipo di operazione con cui si interviene dal primo consulto negli USA dove la Juventus si trovava al momento dell'infortunio del francese era emersa la possibilità di operare subito per sotturare il menisco e avere quindi ampie garanzie di recupero, di recuperare il ginocchio al 95% mettendo però a serio rischio la presenza dei mondiali in Qatar Grazie per la visione!